Una trentina di chiamate dalle scuole trevigiane ai servizi dell'Ulss2 ma nessun caso sospetto nel primo giorno di ritorno in classe. Sul fronte sanitario la prima mattinata di scuola è dunque trascorsa così. L'Ulss2 ha già individuato una serie di referenti divisi per area ai quali gli istituti potranno rivolgersi in caso di sintomi sospetti di uno dei loro allievi. Abbiamo creato una tax force tra medico e assistenti sanitarie che possono andare nella scuola già a iniziare a fare il tampone rapido e in collaborazione soprattutto con pediatri e medici famiglia. Quindi da parte nostra massima collaborazione e anche naturalmente velocità nel testare i contagi, i familiari in modo tale da isolare subito ed evitare che la scuola o la classe venga chiusa. A buon punto la stesura di un accordo con i pediatri perché siano loro a eseguire il test rapido sui più piccoli, eventualità a cui l'Ulss sta pensando di andare in supporto con punti tampone il sabato e la domenica. Tra il personale scolastico 11.460 testati, solo due i positivi, 97 i positivi riscontrati tra i vacanzieri su 10.522 tamponi, il 72% rientrava dalla Croazia. All'orizzonte potrebbe profilarsi un'altra incombenza per la sanità. Il Ministero sta decidendo se far testare i componenti dei seggi elettorali che si insedieranno sabato. Stiamo tendendo questo pronti a fare ovviamente i tamponi veloci e poi casomai confermare l'esito col tampone molecolare. Contemporaneamente ci stiamo già organizzando in accordo con i comuni sia per essere a disposizione per le certificazioni come Dipartimento di Prevenzione sia per i cosiddetti seggi volanti. Infermieri a disposizione dei positivi e dei soggetti in isolamento per garantire il diritto al voto. Intanto in settimana andranno ritestati anche i lavoratori dell'Aia di Vazzola, mercoledì, e dell'Electrolux, giovedì. Aziende in cui si sta applicando quello che ormai è diventato il modello caserma serena. Il maxifocolaio di luglio dal punto di vista scientifico ha avuto un'utilità straordinaria. Ci ha dato dei dati interessantissimi anche sul tempo di negativizzazione di questa patologia che si è rilevato più ridotto rispetto a quello che si pensava.